Fare impresa ma anche innovazione e quindi evoluzione. È stata presentata la quarta edizione di Impact Prototypes Labs, un programma di apprendimento collettivo realizzato dal cottino Social Impact Campus e dedicato alle imprese del territorio piemontese, alle studentesse e agli studenti dei corsi di laurea magistrali del Politecnico di Torino e dell'Università degli Studi di Torino. Un vero e proprio programma di formazione e accompagnamento rivolto alle imprese che intendano affrontare un percorso di evoluzione, innovazione strategica, organizzativa, manageriale attraverso progetti che uniscano gli obiettivi di competitività e posizionamento sul mercato, con la realizzazione e misurazione dell'impatto positivo generato. Un'edizione che vedrà un upgrade proprio del progetto stesso, del programma stesso, proprio perché abbiamo bisogno di cogliere i segnali che anche il mondo imprenditoriale e anche il mondo degli studenti sta vivendo in questo momento, che è già di grande conoscenza degli argomenti legati agli ESG, alla sostenibilità all'interno delle imprese e all'interno della vita di ognuno di noi. Quindi faremo rete sul territorio per dare la possibilità alle aziende non solo di fare ma anche di misurare il loro impatto. In pratica fare impresa anche a sossegno della collettività, soprattutto a sossegno della collettività, confrontandosi anche con menti giovani. Il progetto, il bando, è sostenuto da Fondazione Cottino, dalla Camera di Commercio di Torino e da Unicredit. L'obiettivo è quello di avvicinare le imprese, soprattutto le piccole e medie imprese, alla valutazione dell'impatto. Un gruppo di imprese affiancate da gruppi di studenti. Saranno casi molto concreti di revisione della strategia aziendale, di ricerca dei nuovi business, di nuove opportunità, però tutto in chiave di valutazione dell'impatto ambientale, sociale e anche sulla governa. Perché ci crediamo tantissimo? Perché in un modo, se volete, antisignano, già nel 2019 abbiamo intercettato l'esigenza da parte del mondo imprenditoriale di avere più competenze sulle tematiche ISG. Abbiamo avuto circa 200 studenti che hanno partecipato sino adesso con i professori e che hanno in modo trasversale, tra generazioni, portato delle soluzioni agli imprenditori. È stato sicuramente un elemento vincente in questa proposta del progetto. Questo è il motivo per cui continuiamo a sostenerla fortemente. Grazie a tutti.